Il mio amico sarà il nostro, con il mio amico, e il suo. Quindi vorrei aprire la serata, essendo tutti i miei parenti norvitesi, quindi vorrei aprire la serata con la nina mamma norvitesi, quella che avete già sentito forse. Ma a noi ci piace. Ci piace. Tra l'altro io non so neanche come si chiamino, perché ho saputo adesso che facevamo questa grande... Vabbè, comunque il sangue, come ho detto prima, lo spirito bambianchi non si può controllare, c'è sempre qualcosa di inatteggio, qualche sorpresa. Quindi questa versione acustica dei due pezzi di Abbracciami e Movi di vista di là, con Elio e Mancano dei musicisti. Allora, spirito bambianchi, gestifichiamolo in questa maniera. Io mi prendo i testi perché... Cominciamo con la grande abbraccia, mi credo che tutti sappiano la storia di questo momento. Anche questa è una grande sorpresa per me, soprattutto per me, quando quella mattina mi sveglio. Dai, ora registriamo. Ah, ok. No, per favore, papà, adesso non possiamo registrare. Dai, c'è questa la voce incartata, la mattina non si può. Vabbè, ma ho messo questa base in mental health sotto. Improvvisa. No, non ce la faccio. Allora, cazzo qualcosa in inglese, non sai. Non so se sapete quella canzone commerciale, comunque, di Rihanna. Mi un'era in mente e mi piaceva, quindi... Oh, mamma, mamma, I just shall run down in Central Station. E tutta questa parte inglese, che poi abbiamo messo alla fine, capovolta, che poi nella canzone si senta, adesso non la potremmo fare per due anni. E dopodiché ho pianto per un'ora per un'agitazione, poi quasi ritengo a me, o proprio io a voi che non vi capisco. Piantate sempre senza motivo, per qualsiasi motivo, vabbè. Allora, mi ha trascinato davanti al microfono, mi ha lasciato un attimo la sua, quindi abbiamo cominciato. Quindi tutto questo testo è stato improvvisato in quell'istante. Nella testa, nella mia testa, con le mie immagini, e poi abbiamo creato una storia, una nascita. Vai! Grazie a tutti per questa altra cosa, Lucia. A presto a prendere un gioco! Grazie! Pippa! 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. No, non esita l'acqua e la mente è so chiusa, non respira più, no, non respira più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, respira. Oh, respira. Oh, respira. No, non esita l'acqua. Oh, respira. 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 Buon applauso a tutti! Buon applauso a tutti! Grazie a tutti, sono stati bravissimi, ci siamo messi insieme all'ultimo momento, sono stati eccezionali, applausi gigante, a loro, sovrapposti.